Oggi, miei cari amici, vi voglio parlare di spazio scenico, con un pizzico di competizione. Sono molti i fattori da considerare quando si crea una routine, vero Freccia? Uno di questi fattori è lo spazio scenico, come muoversi nel ring, come utilizzare al meglio lo spazio a nostra disposizione. Certo, capire come disporsi, riuscire a mostrare in maniera pulita i nostri tricks alla giuria, senza coprire con il corpo, senza coprire il cane, non è facile. Charlotte, bisogna cercare di rendere tutto più semplice e lineare. Che tu sia un principiante o un avanzato che gareggi in classe ufficiale, riuscire ad avere una visione di 360 gradi, di come mostrarsi, come danzare davanti alla giuria, è fondamentale. C'è sempre da valutare l'armonia sul cane, l'importante è divertirsi. Siamo tutti in primis per passione, certo, ma un pizzico di competizione, secondo me, è quello che ci rende utili da dello spazio scenico, perché di questo stiamo parlando. Bisogna valutare le traiettorie, gli spostamenti, gli scambi, ma molto fondamentale il bilanciamento nel ring. Un casino! Mi considero sulla strada giusta per iniziare semplicemente a percorrerla solo quando la musica che ho scelto si muove al ritmo del mio cane. Lo spazio che ho scelto di utilizzare rende il ring un unico foglio bianco totalmente scritto. Gli esercizi proposti scivolano tra la storia narrata e accanto alle note si mescolano negli applausi. E infine riesco in questo personaggio scelto ad escrivere questo mio poema. Resterò sempre accanto a quel sogno racchiuso. Mi fai parlare? Racchiuso tra la tua elettrizzante sorridente coda e quell'applauso finale.